Quando le persone mi dicono sai qual è il video che è davvero mi ha cambiato quello perché mi sono rivisto molte cose che hai detto e non pensavo che una persona come te che vedo di successo, che ammiro, potesse avere quel tipo di difficoltà Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal Basement, bentornati oppure magari siete già qui perché vi siete ascoltati una puntata prima quindi molto bello questo è molto bello, ciao io sono Gianluca Gazzogli se ancora non l'avete fatto e vi va iscrivetevi a questo canale se ci state ascoltando o guardando in quel di YouTube se lo state facendo su Spotify, grandi, continuate a farlo lo stesso anche lì che è una cosa che ci fa piacere siamo sempre di più, questo è sempre più bello perché ci permette di fare sempre più incontri a questo ci tenevo in modo particolare, un po' perché è difficile beccarlo e quindi già averlo beccato è una cosa che mi fa molto piacere e poi che abbia avuto anche lui il piacere di venire qui e farci una chiacchierata che aspettavo da diverso tempo perché dal Basement è passato Shai! Grazie per l'invito Bo, grazie a te, io tra l'altro ti ho presentato come Shai! O, cioè quello resta, Shai Shai va benissimo Shai, cioè tu non è che dici no, devi chiamarmi col mio nome e cognome Allora, c'è stato un momento in cui mi sono sentito un po' più serio e quindi ho iniziato a farmi chiamare Alessandro Masa però mi rendo conto che quando le persone mi fermano per strade mi chiamano Shai, c'è un tassello di affetto in più è una cosa un pochino più affettuosa e quindi sono ritornato a Shai È l'amico che ti chiama e ti fa riconoscere in quella cosa Sì, c'è la macchina che passa e qualcuno che si affaccia e grida Shai, ciao! E poi se ne va, ecco L'erroreo di me mi piace molto e quindi sono tornato a Shai Ti succede ovviamente anche quando gira adesso non ho mai svelato dove si trova il basement però che si trova a Milano, questo lo sanno praticamente tutti io ti intercetto perché sei a Milano a fare una cosa molto bella che fai che è davvero una figata ed è una figata perché secondo me arriva al culmine di altre cose belle che fai, quindi principalmente io ci devo invitarti perché stimo il tuo lavoro e ci sono secondo me dei punti di connessione però quelli magari ci arriviamo per gradi anche con quello che ho sempre cercato di fare io quello che fai in questi giorni a Milano in particolare questa sera è uno spettacolo è un incontro a teatro sostanzialmente Sì, sì, noi ormai da due anni abbiamo iniziato a spostare un podcast che avevo iniziato in studio, un po' come qua, diciamo, a Cagliari l'abbiamo spostato in teatro, prima al teatro Parenti poi al teatro Carcano che è più grande e abbiamo fatto tutto da soli, senza una produzione l'abbiamo fatto io, Matteo che è dietro le quinte in questo momento e basta, ci siamo inventati questa cosa siamo andati noi fisicamente in teatro a dire salve, abbiamo questa idea, vorremmo fare questa cosa e ci dicevano, no ma ragazzi, sono mille posti e dicevano, no ma abbiamo un'idea, lo facciamo e quindi è una grande soddisfazione anche per quello perché ce la siamo fatti davvero da soli questa è la cosa forte ma tu in generale ti sei fatto da solo che è una cosa che si dice spesso nel tuo caso poi è molto vera anche questa cosa del teatro tu l'avevi proposta prima a qualcuno o avevi già partito ormai dici io ormai le cose le voglio fare da solo no, 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 abbiamo sempre cercato di fare le cose da soli in realtà volevamo arrivare a questa cosa del teatro in modo più graduale, quindi passare dallo studio a Cagliari che aveva dei problemi perché poi porta le persone in Sardegna difficile eh sì, infatti quindi era complicato e volevamo venire a Milano ma in una cosa più piccolina cioè fare uno studio qui poi con qualcuno nel pubblico poi improvvisamente io sono impazzito ho detto vabbè andiamo nei teatri proviamo a fare questa cosa nei teatri però c'è sempre stata l'idea di fare tutto da soli credo che sia un po' la mia cifra mi piace la parte organizzativa di immaginazione delle cose che potrei fare che è chiaramente anche la più difficile però è quella che ti dà anche poi una soddisfazione più grande esatto già il primo è stato pieno il teatro sì, abbiamo sempre fatto sold out eh, questa è già una figata anche perché poi nel tuo caso non ti si vede spesso in altre città cioè è vera questa cosa che tu tendi a restare nella tua Sardegna, nella tua città credo che sia un po' vera non me vogliano tutti i sardi perché ovviamente non posso parlare per tutti i sardi però di molti sardi questa cosa di voler rimanere ancora al territorio per me è particolarmente vero a me pesa viaggiare mi piace stare a casa sono un po' un pantofolaio voglio stare a casa con la famiglia quindi già un giorno un po' mi pesa però questo sai che rende ancora più puro il tuo lavoro non so come dire cioè si vede che tu fai cioè una persona che ha poi questa attitudine si vede che fa quello che fa perché gli piace quello che fa ha una missione forse più grande che non è ok adesso io sono shy se vado in giro la gente mi riconosce vado in giro a fare delle cose a te quel lato lì non te ne frega niente niente assolutamente nulla cioè sei totalmente anti non so come dire cioè chiaramente ti piacciono come dicevi prima cioè l'affetto delle persone è una cosa a cui tieni tantissimo però non è che vai in giro a fare cose perché ti piace tutto il lato anche glamour diciamo che arriva per niente io sono anti ego io detesto io rigetto l'ego non mi piace mi piace molto la costruzione della community e avere a che fare con le persone che mi seguono io le riconosco in molti casi chi ovviamente è più attivo da molti anni ho visto persone crescere con me davvero? sì tantissimi addirittura molti giornalisti adesso mi dicono io ho iniziato la mia carriera giornalistica lavoro in questo giornale perché vedevo te quando ero ragazzino beh questa credo che sia adesso mi metto un po' nei tuoi panni credo che sia la soddisfazione un po' più no è bellissimo è bellissimo tra l'altro ho visto recentemente il video con Marcello Ascani che è un amico comune che è venuto a trovarti è lui uno di quelli che è cresciuto nel senso sì mi ha colpito perché proprio nell'inizio del suo video lui racconta di quanto era tuo fan comunque ti seguiva e ci sono le sue ma a parte che è lui che sembra ancora adesso un bambino nel senso che non ha un pelo non ha niente però lì si vedeva che era particolarmente giovane e quindi si è approcciato a provare a raccontare anche quella che è la tua realtà in Sardegna ed è una realtà a tutti gli effetti adesso magari molti non hanno presente le varie redazioni eccetera però è una redazione giornalistica quella che fai tu è un mix di redazione giornalistica e catena di montaggio nel senso che poi andiamo molto veloci perché ogni giorno deve uscire un video e siamo pochi per quello che facciamo la verità è quella abbiamo un risultato che è difficile da ottenere con così poche persone siamo sempre di più però pochi però sei partito da solo da solo no inizialmente da solo però non era cioè non è che lo consigli a nessuno non è una cosa normale secondo me nel video di Marcello esco anche un po' come un pa perché dico ma io dormivo qui sono tutto spettinato però c'è stato un lungo periodo nel quale sono stato da solo e poi un altro periodo abbastanza lungo in cui eravamo in due cioè io e la montatrice che è tuttora la montatrice di Breaking Italy e poi piano piano abbiamo iniziato a far crescere la creazione c'è adesso c'è un secondo montatore per i podcast quindi stiamo crescendo in questo senso piano piano tutta la cosa cresce tu quando hai iniziato quanto tempo fa? era 2011 quindi beh 2011 il mondo era un'altra cosa internet era un'altra cosa sì 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 anche youtube era un'altra cosa e tu avevi una missione quando sei partito cioè ho detto vediamo cosa succede allora io ricordo che nel 2011 chi cercava di fare soldi su youtube era visto malissimo le community si rivoltavano ricordo ad esempio Will Wush certo presente no? e lui è stato a un certo punto proprio la faccia di youtube italia e poi avevano fatto delle cose avevano fatto una serie che si chiamava Freaks certo era stata super osteggiata perché c'erano degli sponsor eccetera e io invece avevo l'approccio contrario ho detto questa cosa deve diventare il mio lavoro perché per il quantitativo di energia che ci sto mettendo non posso pensare che cioè di cosa vivo faccio solo questo che diventi un hobby esatto ci ho messo molto tempo molto più di quello che avevo però è la strada necessaria per fare una cosa che poi duri altrettanto altrettanto tempo cioè ci devi credere tantissimo cioè devi proprio avere una visione anche perché all'inizio non ci crede nessuno cioè se non ci credi tu chi è che ti dice sì vedrai no no ce la fai no no su questo mi trovi mi trovi d'accordissimo anche quando Marcello è venuto è venuto anche qui abbiamo fatto un video insieme simile a quello tuo io poi vado a leggermi tu te li vai a leggere i commenti sì 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 lo faccio mi deve essere nel giusto mindset però lo faccio no io lo faccio e poi infatti molti dicevano vabbè ma sei un pazzo no ma questo non è un atteggiamento sano non è un modo però poi e tante volte mi trovo anche io a come dire a riflettere su questa cosa però anche magari lo avrai notato anche tu no quando anche a questo podcast parlando con certe persone che hanno raggiunto certi risultati non ce n'è uno che mi racconti una storia diversa da quella che mi hai raccontato tu no è un qualcosa che riscontri sì 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 cioè credo che ci sia proprio un tipo di personalità che tende a ricercare questo tipo di sfida proprio una cosa personale bisogna tener conto del fatto che è anche vero che spesso non è sano comunque come atteggiamento e che spesso è magnificato no l'idea del dell'impegnarsi tantissimo oltre il ragionevole e invece a un certo punto questa cosa è molto vera per me in questa fase è importante anche trovare un equilibrio perché puoi bruciare sino a un certo punto e poi quelle energie finiscono cioè anche se tu vuoi il corpo a un certo punto ti dice sì anche perché non è una cosa che scegli poi questo tipo di atteggiamento cioè sei fatto così e la vivi e infatti personalmente io devo impormi il contrario devo impormi dei momenti in cui mi calmo e mi dico questa cosa non la puoi fare poi vabbè quando si cresce arrivano anche altre cose la famiglia i figli allora l'ho detto anche a Marcello non sono solo io che posso fustigarmi quanto voglio ma non posso fustigare gli altri quindi anche quello diventa una responsabilità diventa tutto un po' un po' più grande la cosa incredibile è che poi in questo tuo percorso è cambiato anche proprio il mondo della comunicazione tantissimo e in qualche modo ha dato ragione a chi ha fatto come te cioè a chi si è preso cioè alla fine molta gente oggi non guarda il telegiornale e guarda il tuo video del giorno questa cosa anni fa era probabilmente impensabile c'è stato quando c'è stato secondo te un momento in cui questo cambiamento è stato particolarmente evidente allora secondo me ce ne siamo accorti quando sono iniziate a uscire le pagine Instagram è lì che davvero abbiamo visto la differenza perché YouTube è per quanto mi riguarda il social network migliore in un certo senso perché permette di monetizzare permette di creare delle community ha delle dinamiche che nessuno è riuscito a emulare dal mio punto di vista però di massa è veramente diventato Instagram a un certo punto tutti avevano Instagram come tutti avevano Facebook e quando le stesse redazioni del Corriere dico della stampa si sono accorte che dovevano anche loro inseguire quei trend che stavano nascendo quindi immagina le pagine come Will Torcia Factanza queste cose che si rivolgevano a un pubblico già presente su Instagram lì secondo me c'è stato ci si è accorti che è cambiato qualcosa cioè le redazioni non hanno mai detto noi dobbiamo fare come Shy che sembrava una roba per alieni però si sono detto noi dobbiamo fare come Will perché parla a un pubblico che è già lì che sono potenzialmente dei nostri ascoltatori mentre i miei ascoltatori è più complesso perché YouTube è più community based sì totale anzi è l'unico io poi in modo particolare in quest'ultimo anno ci sono ritornato prepotentemente a me all'inizio ho dato la possibilità di farmi conoscere eccetera e adesso ci ritorno perché comunque al netto di tutto resta la piattaforma su cui anche ho deciso di investire in qualche modo che comunque ti riflette su tutto il resto cioè ti crea quel tipo di legame con chi ti segue per cui diventa quello che hai detto adesso cioè diventa una cosa anche più grande diventa anche più potente quindi per te resta il player principale in questo momento assolutamente sì sì perché si crea appunto quel rapporto che dicevi tu è un po' come la radio ecco la radio è un pochino più simile perché crea un'affezione con chi ti ascolta tutti i giorni e quindi si abitua a interagire con te o anche solo ad ascoltarti mentre va a lavoro diventa una cosa che fa parte della sua vita entra proprio nella vita della persona con l'abitudine e quindi anche chi ti segue non ti vede su un pulpito particolare ma ti vede come un amico cosa ti dice la gente quando ti incontra allora quello dipende dipende anche da come ti presenti perché c'è chi effettivamente si pone in una maniera c'è chi si pone in un'altra sì anche se è il mezzo però in qualche modo democratizza un pochino però io ho sempre messo davanti un certo tipo di atteggiamento che è quello mio che è sono l'hunter dog sto arrivando dal nulla e anche non sono figo cioè io ho sempre avuto questa cosa di non sono figo sono un tizio che ha queste passioni e le persegue con tutte le difficoltà che io poi ho mostrato negli anni e questa cosa qui credo abbia portato molte persone a empatizzare con me con una figura che si presenta molto più vicina a te e non scusate e non che arriva dall'iperuraneo e la gente cosa ti dice quando ti ti incontra poi dal vivo quando ti scrive no è qualsiasi tipo di cosa però è spesso l'atteggiamento che sia verso un fratello maggiore quindi molto spesso le persone ti raccontano di come le hai accompagnate in un periodo di come si sono sentite in un certo momento magari un certo video che io ho dimenticato delle cose che io ho detto che ho dimenticato o altre che invece sono molto verticali ci sono alcuni video che proprio le persone si ricordano e quindi tendenzialmente mi raccontano in che modo ho impattato nelle ruite beh questo è figo è molto bello c'è qualcosa che ti è rimasto particolarmente impresso di qualche momento tipo questo beh allora diciamo che è abbastanza noto che io sono molto attivo sotto al profilo della della salute mentale o anche degli sponsor che insomma si occupano di questo si occupano di questo abbiamo queste partnership apposta perché insomma ci credo molto e c'è un video in particolare che non è un video di Breaking Italy è un altro video che io avevo messo in cui avevo parlato di difficoltà che avevo avuto in questo senso in realtà per tutta la vita perché è una cosa che mi ha accompagnato per tutta la vita e quel video è uno dei più citati quando le persone mi dicono sai qual è il video che davvero mi ha cambiato quello perché mi sono rivisto in molte cose che hai detto e non pensavo che una persona come te che vedo di successo che ammiro potesse avere quel tipo di difficoltà questa cosa me la porto dietro da un sacco per me è molto importante beh quello di nota quanto in realtà si è presente questo tipo di problematica nel nostro paese adesso in questi ultimi due anni diciamo dal covid in poi se ne parla tantissimo tantissimo forse è un bene che se ne parli che se ne parli tanto nel tuo caso in che cosa impattava no in tutto io ho ogni tipo di forti depressioni soffro d'ansia da sempre quindi queste cose le ho messe davanti però questo è correlato anche al lavoro che fai secondo te o è una cosa a prescindere allora in realtà il mio lavoro io credo sia stato un modo di sfidare quel tipo di difficoltà perché appunto è una roba che in realtà mette in discussione è una terapia d'urto a livello altissimo tantissimo tantissimo perché è come avere paura di nuotare lanciati in acqua è quel tipo di e poi mentre sei in acqua però hai ancora paura non è che ti passa però sì ha sicuramente ha sicuramente giocato un ruolo ecco il mio lavoro cioè anche perché non so stasera sali sul palco dal vivo con tutta una serie di persone un teatro pieno un ospite comunque importante sì 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 però però prima di salire sul palco hai ancora un momento di ormai sei sicuro quando sono sul palco sono tranquillo ok però il pre è spesso complicato la parte di l'ansia è proprio quella roba lì l'attesa di cosa verrà non sapere se sarai all'altezza se sarai bravo se sarai bravo cioè a livello dell'aspettativa che tu stesso poi ti sei creato perché spesso noi ci immaginiamo le aspettative degli altri però parametrando a quello che noi pensiamo di noi stessi non a quello che gli altri pensano di noi stessi e tu quando vengono gli ospiti non so adesso mi riferisco a quello al teatro perché se non ho capito male insomma seguendoti gli ospiti diciamo quando fai il teatro vengono gli ospiti quelli più importanti più o meno cerchi di incastrarli sì no ho avuto degli ospiti molto importanti cosa pensano loro di te secondo te cioè come cosa ti quando ti presenti sì all'inizio cioè ti conoscono tutti cioè tu hai ospitato persone di mondi di mondi completamente diversi anche diversi dal tuo dal nostro in generale come perché te lo dico anche perché poi anche io no tante volte la mia fortuna è di stare un po' in mezzo perché magari con la radio con la televisione allora magari qualcuno mi conosce per quello per que però devi comunque sempre fargli capire oggi che cosa stai facendo perché stiamo facendo una roba che va su youtube o che va su spotify cioè tu come qual è io ho tipo due o tre frasi che uso sempre quali sono eh non lo so cerco di far capire che comunque diciamo si crea un'atmosfera particolare che in altri posti non si crea cioè è sempre un cercare di quasi a giustificare quello che sto che sto facendo ma che in realtà è a livello cioè è è un pro diciamo per chi viene ospite io spero ok allora anche noi abbiamo vari tipi di frasi che parametriamo a seconda di chi è la persona con la quale stiamo parlando anche gli ospiti che sono venuti da me io li scelgo a seconda del mio interlocutore quindi se da una certa età in giù ne mostro alcuni da una certa età in su ne mostro altri ok bravo anch'io questa cosa la faccio anch'io è un classicone si 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 sposti anche loro e poi cerco anche di capire no secondo me quello lì gli sta sulle palle ah si no vabbè così tanto no però chiaramente sicuramente magari se una persona vede che è venuto un'altra persona quella gioca quella cosa lì poi aiuta ma perché inizialmente questa è stata la nostra grande difficoltà che io avevo queste queste idee di ok parlo con i politici perché quello è poi il mio mondo si 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 sono mondi proprio diversi però era difficile spiegare che cosa stessi facendo io ho avuto una questione te lo dico perché è molto nota era successo su twitter quello l'hanno visto tutti con calenda si perché una delle prime persone credo la prima persona che io volevo invitare al mio podcast era calenda perché era in un momento in cui stava lanciando una roba che si chiamava siamo europei quindi aveva questa forte impronta sull'europeismo che aveva perso o perlomeno non è diventata più il suo cavallo di battaglia politico e ci sono stati un sacco di bisticci perché io lo volevo portare a Cagliari e lui non ne voleva sapere e mi aveva anche tipo un po' attaccato mi aveva detto ma lo faccio in collegamento gli avevo detto no ma in collegamento non è lo stesso bravo però c'erano stati questi bisticci poi ce ne sono stati degli altri insomma lo capisco lo capisco il problema e ovviamente se qualcuno mi conosce è molto più facile quando ho invitato ad esempio i pinguini tattici nucleari avevo un rapporto con loro addirittura alcuni di loro sono cresciuti con i miei video quindi lì è molto facile far capire all'ospite cosa stanno andando a fare con altri soprattutto nel mondo del giornalismo che è estremamente complicato è ostica molto molto soprattutto con delle generazioni diverse sì perché c'è proprio un diciamo che oltre i 40 45 se la sto proprio tirando youtube non esiste sotto magari la tv certo c'è proprio questo scalone e quindi ovviamente chi fa parte di un mondo molto più mainstream molto più classico più che non esiste fa anche finta che non esista in tanti casi nel senso che conviene pensarla così perché poi mi sto accorgendo anche con questo e te ne accorgi tu con quello che fai tu l'impatto reale che poi ha sulla vita delle persone magari rispetto a tante altre cose diciamo tradizionali che però restano un po' nel mezzo nel senso restano un po' restano un po' lì quindi dici che per posizionamento cioè non vengo lì perché percepito adesso non più non più anzi perché poi adesso c'è la figata che poi come è capitato qui da te eccetera ci sono degli ospiti che invece sono più avanti che accettano e capiscono e poi sdoganano la cosa e quindi a quel punto succede che degli ospiti che non ti aspetti magari anche di età più grande capiscono che è una cosa che funziona che sposta più di altre cose che ormai a me sembra non so cosa ne pensi tu però è proprio a me sembra che le cose viaggino su due binari paralleli c'è il mondo dello spettacolo ma anche dell'informazione cioè da una parte c'è un binario dove come dire si è ancorati a dei riferimenti che in realtà ormai non esistono più a dei canoni che non esistono più e si fa finta che invece quell'altro non esista e va bene così e l'altro che però esiste e per necessità perché non ha avuto magari delle altre possibilità ha creato un mondo nuovo però vuole snobbare un po' quello quello tradizionale credo di sì un po' perché di base sono ambienti competitivi in cui competi per degli spazi per l'attenzione degli altri che non è infinita questa cosa si diceva inizialmente su youtube ma qui è tutto democratico perché non ci sono palinsesti è vero però l'attenzione delle persone giornali era illimitata e quindi a un certo punto è una competizione sempre e ovviamente il fatto di voler snobbare qualcuno che potenzialmente è anche un pericolo per te sto parlando ovviamente in linee molto generali ma insomma è una cosa che vedo esiste è anche normale forse quindi anche la questione dei risultati nel senso chi sta online è molto abituato a vedere tutte le metriche di quello che fa sa benissimo chi raggiunge come lo raggiunge che effetto ha in tv magari non è esattamente così l'audit è una roba molto più e spesso cose come questa smuovono molto di più però talvolta non è così importante quanto il cloud che si crea attorno a certi situazioni magari smuovono niente tu questa cosa l'hai mai sofferta invece moltissimo però me ne sto liberando in un certo senso cioè qual era la cosa che ti faceva soffrire allora il fatto che ho iniziato a soffrirne un po' quando sono arrivati gli altri di nuovo c'è sempre questo discorso qui quando arrivano gli altri in questo caso non la mia famiglia ma la mia redazione perché quando io facevo le mie cose tutti mi dicevano bravo le stai facendo bene ci piace il tuo metodo ma nessuno nel mondo giornalistico mi riconosceva dicevo vabbè adesso che vedo il lavoro degli altri la redazione che si impegna un sacco per fare le cose bene per fare le belline il fatto che questo lavoro collettivo non sia riconosciuto loro principalmente un po' mi fa soffrire perché poi lo dico spesso io ho spesso degli infiltrati nelle redazioni che magari appunto sono cresciuti con me che mi dicono ma noi li guardiamo i tuoi video noi li seguiamo i tuoi contenuti però non c'è quel tipo di riconoscimento e perché te lo sei chiesto beh perché è un mondo molto chiuso innanzitutto io non sono un giornalista non posso essere un giornalista per ragioni tecniche ho già spiegato perché e questa cosa non essere parte del club in qualche modo però ci sono anche tantissimi altri giornalisti che sono bravissimi e non vengono calcolati no no lo so però quello che dici secondo me è verissimo e fa parte un po' della cultura del nostro paese sul discorso di etichette mica etichette tantissime cose del genere cioè non tu non sei uno youtuber nell'accezione dello youtuber no tu fai un lavoro giornalistico anche superiore magari ad alcune non dico tutte ovviamente magari ad alcune redazioni che magari in alcuni casi sono più approssimative non lo so però forse questa cosa te la chiedo anche perché mi aveva colpito durante una tua chiacchierata con Francesco Costa che avevo visto in una puntata molto molto bella lui è un'altra persona che stimo molto ed era ed era un po' saltato fuori questo discorso del giornalismo in qualche modo però oggi tu credi che questa cosa sia importante tu dici me ne sto un po' liberando di questo pensiero sì perché tanto mi rendo conto che alla fine è soltanto un'etichetta cioè io essendo italiano e quindi nuotando in questo mare nel quale nuotiamo tutti quel mare culturale italiano un po' soffro della mancanza di etichetta però poi mi rendo conto che magari quell'etichetta non mi darebbe niente alla fine a livello di community a livello di risultati ce li abbiamo se non abbiamo effettivamente bisogno che qualcuno ci dica se avessi dieci anni di meno secondo te ti sarebbe interessato cioè il fatto che tu sia una generazione più o meno tu di che anno sei? 84 84 quindi sei cresciuto anche tu diciamo nel mezzo nel senso con il mito magari classico della televisione eccetera eccetera sì tantissimo però poi parlando una lingua invece che ai tempi quando eri piccolo non esisteva cioè tu pensi che un ragazzino che nasce oggi vuole fare questo mestiere si ponga le stesse menate che magari ogni tanto ti fai mi permetto di dire perché magari sono tante volte me le faccio anche io no 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 fai bene però penso di sì penso che se le ponga perché è un atteggiamento culturale italiano che poi noi passiamo agli altri normalmente quando io vengo attaccato per il mio lavoro non vengo mai attaccato sui contenuti che cioè c'è tanto lavoro dietro ogni singola frase che noi diciamo io sono proprio maniacale penso che nel video di Marcello si sia visto sì 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 percepisca vengo sempre attaccato sul titolo sì ma sei uno youtuber che ne sai sì ma cioè però non vuol dire nulla nel senso che poi noi abbiamo delle persone che hanno anche fatto dei pezzettini di percorso giornalistico adesso non per tirarmela però gli abbiamo dovuto insegnare tante cose comunque perché è un'impostazione diversa chiaro e quel tipo di eh però non sei x secondo me noi poi lo passiamo agli altri cioè ce l'abbiamo un po' tutti dentro è una cosa culturale ma c'è qualcuno invece all'estero che fa quello che fai tu a cui ti ispiri sì 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 o come funziona insomma sei buttato l'occhio ce ne sono tanti ce ne sono tanti peraltro cambiano nel tempo perché io sono un po' una vecchia generazione poi cambiano un po' le mode cambiano un po' le cose che funzionano io sono molto io sono molto quadrato con quello che facciamo e quindi sono molto 1.0 potremmo dire però sì ci sono Felipe De Frenco è un nome che ai tempi era famosissimo e io mi ero più ispirato a lui almeno per quello che faccio poi mi ero ispirato anche ad altri per altre cose però per dire adesso si parla moltissimo di un giovanissimo a meno di 30 anni a tipo 28 che si chiama John Harris ed è bravi si fa delle cose giornalistiche che sono validissime ma veramente meravigliose ed è uno youtuber chiaro e qual è la cosa professionalmente parlando che hai fatto che ti ha soddisfatto di più fino ad oggi o anche temi che hai trattato in un certo modo ci sono delle questioni che spesso non vengono approfondite sulle quali io mi fisso ad esempio c'è stato un periodo in cui io parlavo moltissimo dello Xinjiang che è una regione della Cina con una minoranza che si chiamano Uiguri sono musulmani e c'è in atto una campagna di persecuzione nei loro confronti per eradicare la loro cultura perché i cinesi il governo cinese ovviamente ha questa tendenza a voler uniformare tutti quanti sulla cultura Han che è quella principale non ne parlava nessuno di questa cosa noi ne abbiamo parlato per anni quello è un motivo d'orgoglio le Filippine sono un'altra questione le Filippine hanno fatto l'ex presidente Duterte ha fatto delle forti battaglie contro le droghe nel senso che ha proprio armato delle persone che andavano a uccidere presunti spacciatori creando insomma delle problematiche sociali importanti peraltro in un paese poverissimo con delle grosse difficoltà e questa notizia non se l'è filata nessuno e io mi sono fissato e ne abbiamo parlato il Myanmar è un'altra mia fissa ci sono alcune cose che sono contento di aver coperto molto più di quanto altri le abbiano coperte tu ti rendi conto a volte che con il tuo parlare di una certa tematica sposta delle cose perché hai un certo numero di persone che ti seguono che poi vanno e cambiano magari anche la loro opinione cioè in qualche modo tu dai la notizia ma dai anche un po' quello che è il tuo pensiero sulla notizia sempre quindi non è il TG5 cioè chi dove mi dice una cosa è quella e poi io trago le mie conclusioni questa cosa come la vivi? il fatto di dire la mia opinione il fatto di che poi con l'opinione comunque genera qualcosa allora noi cerchiamo sempre di trasmettere innanzitutto un metodo perché tu dici il TG5 dalle informazioni acritiche in teoria come tutti i TG dovrebbero essere in realtà hanno una direzione politica che è spesso molto chiara quindi tu sai che stai guardando il TG1 non stai guardando il TG2 ci sono delle differenze io cerco di promuovere noi cerchiamo di promuovere un metodo che è di senso critico quindi io dico sempre la notizia nel modo più acritico possibile proprio clinica e poi dopo dico io questa cosa la penso così e ci sono arrivato per questo ma a parte che cambio spesso idea perché questa è una cosa mia mi piace il confronto e quindi ci sono alcune posizioni sulle quali ogni tanto cambio un po' idea lo dico dopo e lo dico chiaramente non cerco di infilare le cose dopo e soprattutto noi facciamo una cosa della quale sono molto orgoglioso noi cambiamo i risultati cioè capita spesso noi abbiamo un podcast che si chiama Grandi Line che lo mettiamo su Spotify adesso va molto bene e lì quella è un po' la riunione di redazione una piccola parte della riunione di redazione che noi registriamo capita molto spesso che le cose che io poi dico in Breaking Italy sono diverse sono il contrario perché se io trovo dei dati che contraddicono quello che io stavo dicendo si cambia tutto questa cosa poi è bellissima cioè come ti è venuta l'idea di fare questo podcast con la riunione di redazione era divertente mi divertiva molto la mattina trovarmi con la redazione loro mi facevano la rassegna stampa principale mi dicevano oggi sta succedendo questo e quello ed era divertente perché comunque c'è un bel clima in studio ne ridevamo e ho detto sapete cosa siccome le notizie sono sostanzialmente deprimenti cioè le news di base sono quelle sono quelle difficile che apri con abbiamo trovato la soluzione alla pace nel mondo esatto e se una cosa va bene non è notiziabile quindi le news sono così allora ho detto è comunque interessante parlare di certe cose però con il mood che gli diamo cioè ridendo delle cose nei limiti ovviamente senza esagerare chiaro e da lì hai detto mettiamole online mettiamole online abbiamo un po' cambiato il format cercando di farlo funzionare adesso sono contento no vabbè perché poi bisogna sempre comunque innovare tu come ti informi prima abbiamo citato i tg tu i tg li guardi ma io ho proprio zero molto raramente sono fan di mentana da tempo immemore però devo dire che non lo seguo più di tanto seguo molto troppo i programmi di approfondimento politico della sera tipo i talk quelle sono proprio un guilty pleasure del quale non riesco devo dire che pure io dal periodo soprattutto del covid purtroppo perché c'era solo quello in quel momento in qualche modo poi era diventato fin troppo posso chiederti cosa guardi quali sono quelli che ti appassionano di più per diversi motivi poi ti possono appassionare non per forza tutti positivi principalmente ciò che c'è sulla 7 lo trovo lo trovo interessante però spezzo una lancia a favore di report che su online è un po' criticato però a me piace tanto però sì principalmente trovo formigli molto molto bravo come mai criticato report non è sempre stato uno invece un po' visto come quelli che come le iene fatte bene adesso passami il termine allora sì il punto è che il report non è necessariamente la mia opinione però viene criticato perché c'è l'idea che partano dalla fine e poi costruiscano il servizio dietro quindi se vogliono dire questa azienda sta inquinando questo fanno in modo che quell'azienda sembri che stia inquinando quella anche se poi non è vero io non la penso esattamente così però quella è la critica che gli viene mossa principalmente io poi ho grande rispetto in realtà per il giornalismo d'inchiesta perché non lo fa nessuno è bello impegnativo quello è proprio costa tanto ti posta un sacco di problemi gli devi avere una vocazione sì chi è che c'è qualche giornalista d'inchiesta che ti piace che ti ha che hai seguito magari in qualche avventura che ho seguito personalmente no beh senza andare anche tu lì diciamo però insomma qualche inchiesta che hai detto cazzo questa questa è peso la mia preferita tra tutte è Francesca Mannocchi ah ok la stimo la stimo un sacco è una cosa nota come il fatto che sia noto che sto cercando di raggiungerla da anni ma è complesso prima o poi prima o poi prima o poi succederà tu mi insegni sei in ascolto tu mi insegni che tutto può succedere esatto in qualche in qualche modo no questo è figo anche vedere poi anche tu stesso come ti rapporti all'informazione c'è qualcosa che ti fa incazzare oggi guardando quello che c'è intorno nel mondo dell'informazione sì tantissimo soprattutto l'informazione che purtroppo è di stampo statunitense che è politica nel senso se tu guardi la 7 alla 7 ci sono spesso i politici e ci sono anche i giornalisti e i giornalisti sono sempre di area e se tu ascolti un giornalista di area è come ascoltare un politico di area cioè sono sovrapponibili quindi è il momento del giornalista di destra ok il giornalista di destra sai che difenderà l'operato del governo di destra al 100% sparassero ai bambini sto esagerando comunque gli troverebbe una giustificazione sì sì esatto questa cosa è un po' un problema perché questa commistione tra politica e giornalismo è troppo è troppo stretta cioè ci sta che i giornalisti abbiano le loro opinioni o le mie per carità però ognuno fa il suo ruolo no questa cosa è una problematica recentemente Fox News che è un po' insomma il padre di tutta questa problematica negli Stati Uniti ha avuto dei problemi con un'azienda che vende sistemi per votare perché negli Stati Uniti si votano con delle macchine è una cosa complicata perché è saltato fuori che Fox si è completamente inventata che questa questa azienda avesse avuto un ruolo in un complotto per far vincere Biden e non Trump hanno dovuto pagare tantissimo qualcosa come mezzo miliardo 600 milioni cioè una roba gigantesca è acclarato che l'abbiano fatto è acclarato che la linea dell'emittente fosse sappiamo che questa cosa non è vera però però la diciamo perché il nostro pubblico la vuole sentire ma quello non è giornalismo cioè tu li stai fiancheggiando un politico non è ok in Italia è successa in Italia succede di continuo questo tipo di insomma recentemente abbiamo avuto la questione che cos'era Porro che era andato quando Giorgia Meloni e Salvini stavano cantando il karaoke ricordi è saltato fuori che alla festa di Salvini c'erano tutti i politici di destra possibili ora non è che non possano essere amici però non è strano che a una festa di un politico uno ci siano tutti i giornalisti di quell'area cioè che tipo di banalmente io ho intervistato Elish Line l'ho trovata fantastica come persona ogni tanto ci siamo andati i meme le cose te le mandi però comunque nel rispetto dei ruoli secondo me non puoi essere non ti puoi diciamo instaurare un rapporto personale perché poi va a influire cioè è impossibile che non influisca la tua opinione secondo me sì secondo me sì specie se poi dico ah no questa persona mi è simpatica quindi io la devo difendere a spada tratta a prescindere lo puoi fare però non stai più facendo il tuo lavoro non è quello è come un giocatore che non può ti fare una squadra di calcio esatto perché è un professionista e non può ti fare una squadra di calcio è esattamente quella cosa poi mi dovrei dire che meme vi siete mandati ci stavamo passando meme di Fantagiro siamo grandi fan di Fantagiro questo aiuta quanto quanto è pesante parlare di politica cioè io ad esempio non essendo il mio campo una cosa che tendenzialmente cerco di evitare ma più che altro perché è una cosa che richiede tempo cioè non puoi dire una cosa e basta la devi approfondire devi comunque questo non vuol dire che non dico quello che penso ma per parlare in un certo modo devi fare quello che fai tu quindi metterti lì puoi andare a fondo eccetera quanto questa cosa cioè se tu metti tutto sul piatto della bilancia cioè credo che sia complicato lo è sicuramente dipende anche da quale è il tuo interesse ad esempio io non trovo tantissimo interessante la politica in sé per sé trovo molto interessante nella vita in genere i rapporti tra le persone i rapporti di forza di amicizia tra le persone e siccome la politica a tutti i livelli anche a livelli internazionali è sempre comunque un rapporto umano capire le connessioni tra gli individui tra i leader e come questo gioca un ruolo poi in quello che fanno lo trovo estremamente affascinante ma approfondendo tante volte non ti accorgi che poi le cose più assurde eccetera nascono per delle cagate cioè nel senso ogni volta uno poi pensa no perché chissà dietro a questa cosa poi quando invece vai a fondo cerchi di capire ti rendi conto che tante volte le cose accadono per motivi totalmente diversi da quello che pensiamo noi e soprattutto motivi molto umani che tutti possono comprendere ma questo succede anche nel lavoro ti capiterà con tante persone quello lì dice una cosa o fa una cosa che non ti piace e quel ponte è un po' bruciato nel senso che magari poi tu quella persona non la cerchi né cerchi un'altra e immagina due leader che si incontrano non si piacciono si dicono una cosa che non va e lì ci va di mezzo il destino di milioni di persone esatto questa roba è incredibile questa cosa succede e spesso uno non lo sappiamo mai troppo con certezza perché poi molti degli incontri non è che avvengano sempre a porte aperte certo no assolutamente poi in generale nessuno è nella testa di nessuno quindi non lo sai mai io posso anche dirti tu mi chiedi quella persona è una testa simpatica magari ti dico di sì però poi in realtà però la menata più grande che ti ha creato il parlare di politica cioè al di là magari dei commenti non so immagino i commenti sotto i video o altro cioè no non succede in realtà non succede per due ragioni uno perché noi siamo sempre molto attenti a riportare cioè a rendere palese che stiamo riportando cose riportate da altri ed è un po' un giochino che facciamo in modo da essere oh l'ha detto loro l'ottice repubblica e dall'altra godiamo di una cosa che tu dicevi prima cioè veniamo un po' snobbati e se tu snobbi non è che poi puoi farti la crociata contro il tipo che stai snobbando e quindi godiamo di un livello di autonomia che per ora è ancora molto che quindi ti permette spero di non dare idea a nessuno non è un invito ecco esatto non è un invito non è assolutamente un invito tra tutte le varie tematiche quella che secondo te ha colpito di più le persone quando ne parla cioè in termini di numeri non so qual è il tuo video il tuo contenuto non lo sai la notizia che più ha girato o altro no non lo so sinceramente cioè ci sono sai quelle notizie che magari perché è presente un personaggio noto e quindi in quel momento gira un pochino di più però non ce n'è una che mi fa dire ok quella lì ha davvero fatto il botto ma tu eri così anche quando eri un ragazzino quando hai iniziato cioè eri quello che della classe andava in rappresentanza non so faceva il rappresentante di classe no 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 io sono alle volte mi sono definito un pesce con le ali nel senso io sto facendo una roba che non mi compare io sono un nerd io voglio stare nel mio angolo a leggere fantasy giocare a whatever programmer dnd cioè io sono quella cosa là però mi sono invece ritrovato a fare l'imprenditore a fare a guidare una relazione quindi no mi ricordo che c'è stato un momento in cui volevano che io fossi rappresentante di classe e ho detto oh sul mio non me ne frega niente non me ne frega niente però la politica l'ho sempre vista come il gioco degli adulti dei grandi è quel gioco in cui i grandi si divertono a parlare di questa cosa a dire questa cosa a creare situazioni e quindi tante volte oggi dico cacchio belli i tempi in cui non me ne fregava un cazzo cioè quando non me ne fregava niente di quello che succedeva al telegiornale eccetera e invece adesso lo guardi guardi le notizie e ti preoccupi anche c'è qualcosa che ti preoccupa oggi guardando informandoti come ti informi tu in generale nel paese cosa intendi? in generale per un andazzo che è il nostro paese in questo momento ogni volta nell'ultimo periodo non siamo stati particolarmente ottimisti non so come dire se io vedo le ultime cose che sono successe in generale al di là delle ultimissime che non sappiamo magari che risvolti avranno però di molte cose dici cacchio ma perché sta andando così ma perché dove andremo i nostri figli sono dei discorsi che ho fatto che ho detto cazzo ma davvero sto dicendo questa cosa quando si diventa genitori succede questa cosa tu ti ritrovi a fare questi pensieri tantissimo a me è una cosa che preoccupa moltissimo però diventa pollosissimo sto podcast no invece ok la denatalità è una delle cose che più mi spaventa sì il fatto che facciamo sempre meno figli e siamo sempre meno e abbiamo al contempo delle politiche che non vogliono non agevolano non solo non agevolano ma non vogliono neanche l'ingresso di nuove persone quindi noi viviamo in questo paese che è un po' in stallo da molti anni con i salari che non crescono l'economia che non cresce è tutto fermo è una vetrina l'Italia e a me questa cosa un po' crea angoscia cioè sapere che noi tra qualche decina d'anni saremo la metà cioè la metà è pazzesco questa cosa è anche ingigantita dal fatto che la Sardegna è non solo la regione italiana ma del mondo in cui si fanno meno figli davvero meno che in Corea se non sbaglio è 0.9 e come mai adesso io non vengo in Sardegna da un po' perché la Sardegna conosce un'emigrazione fortissima da decine d'anni ok e quindi uno spopolamento costante costante quindi ovviamente cioè queste cose vanno di pari passo noi vediamo i giovani che vanno via i giovani che vanno via sono in realtà la risorsa più grande perché poi hanno delle idee vogliono fare delle cose le sviluppano aprono le aziende se tutte queste forze vanno via rimangono altre forze è preoccupante è una cosa che un po' mi angoscia beh tu ad esempio tu sei molto riservato sul tuo privato sulla tua famiglia eccetera come mai hai fatto questo tipo di decisione adesso da questa chiacchierata un po' l'ho capito nel senso che fa parte della tua personalità però è una roba su cui ti sei messo dei pallini e detto io non voglio parlare della mia famiglia cioè si sa che sei papà quello si sa però poi tante altre cose non le raccontano cioè non fa parte del tuo storytelling se proprio vogliamo dirla esatto no per niente perché nel senso utilizzo spesso il fatto di essere padre perché questa cosa mi ha fatto vedere le cose in modo diverso quello diventa perché ti cambi tu però ci sono varie ragioni una ragione è che mi piace passare più in osservato possibile come ti ho detto quindi il fatto di non mettere sotto un riflettore mio figlio e la gente lo riconosce non mi piace l'idea che poi lui possa crescere un discorso che ho fatto con Fedez in realtà in una delle nostre inchiaccherate che lui possa crescere come mio figlio cioè preferirei che lui avesse una sua identità che può anche rinegarmi a un certo punto e dire boh mi padre è un coglione io non voglio essere riconosciuto come suo figlio la mia compagna detesta anche essere fotografata quindi proprio ok c'ha questa cosa qua quindi sì cioè io sono il tipo di persona che vorrebbe vivere in un paesino tranquillo in Sardegna mi trovo molto bene in questo senso e lei scusami come l'hai conosciuta nel senso tu già facevi questo quando hai conosciuto lei quindi lei sapeva cosa facevi beh non lo facevo ancora quindi ho iniziato ho iniziato quando ci siamo conosciuti conosciuti vabbè ci siamo conosciuti molti anni prima però quando ci siamo incontrati però l'unico modo può essere stato se no da casa tua alla redazione non facendo altre cose è l'unico momento in cui no no ma io ancora non lo facevo quindi non iniziavo ah ok mi ha seguito eravate proprio giovani giovanissimi io non ero così giovane quando ho iniziato io sono più giovane sì è vero hai detto nel 2011 ho 39 anni adesso beh quindi ne avevi neanche 30 no 28 28 ok sì è vero non ero proprio un ragazzino non ero uno youtuber di quelli sembravo un ragazzino beh sì sei sempre sembrato più giovane in quel momento e quindi scusami lei l'hai beccata già la conoscevi sì 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 ci siamo incontrati per altre cose quindi sì lei ha visto tutto questo percorso come l'ha vissuto dal suo punto di vista secondo te beh allora devo dire che la mia community è molto rispettosa su certe cose quindi perché appunto è una community molto coesa poi le persone sanno come sono quindi non evitano di esagerare però ovviamente è una cosa alla quale ti devi adattare a un certo punto perché effettivamente comporta che effettivamente le persone ti riconoscano e ti avvicinano però anche lei come ha vissuto il tuo sogno non so come dire perché poi la persona che hai a fianco come tu per lei sicuramente cioè si giocano dei ruoli abbastanza importanti quindi lei avrà vissuto perché poi è una montagna russa questa vita qui assolutamente no è sempre stata super supportive no senza non si sarebbe fatta questa cosa vedi che perché hai comunque bisogno di qualcuno che davvero crede in quella roba lì magari non ci credono i tuoi amici vicini le persone che lo dico sempre magari vedono i miei primi video dicevano ma è impazzito cioè che erano magri con te alle medie e dico ma questo qua è impazzito che cazzo fa però invece non lei è sempre stata super supportive e questa cosa è molto importante ovviamente beh è chiaro anche perché tu praticamente il video è giornaliero no? giornaliero fin dall'inizio è sempre stato così sì ci sono stati dei momenti in cui non lo era però principalmente sì e Breaking Italy perché si è chiamato Breaking Italy? perché vorrei dirti che c'è stata una grande un piano di marketing incredibile un pool di scienziati praticamente sia dietro il nome che dietro il logo ci sono delle storie strane nel senso che il logo di Breaking Italy io l'ho creato tipo in dieci minuti perché mi serviva l'ho fatto io copiando cose che ho visto tipo anche lo sbaffo di colore che c'è l'ho copiato io lo odio adesso si sanno che lo odio però è quello non lo voglio cambiare non vuoi fare il rebranding non voglio fare il rebranding e il nome invece l'ho scelto perché c'era un famosissimo youtuber ai tempi che faceva una cosa che si chiamava Breaking LA perché viveva a Los Angeles ma erano dei vlog della sua vita non c'entrava niente e io ero suo fan e quindi ho detto ah quindi non c'era un nome di rottura nei confronti dell'informazione è una cosa che ho detto sono quelle cose che tanto poi lo cambio sono come le mail che c'hai da giovane che si chiami drago 51 c'è qualcuno che ce l'è ancora tutti ce l'è ancora molto la mia era bella Giangi che ho e ce l'ho detto purtroppo l'ho detto e invece poi prima citavi alcune delle interviste che hai fatto anche durante ce n'è una che ti ha lasciato proprio qualcosa dentro chiaro che credo siano state tutte molto interessanti per te però ce n'è qualcuna in particolare ce ne sono state varie che mi hanno effettivamente lasciato delle cose sicuramente una delle mie preferite è quella con Daria Bignardi con cui ho trovato un'affinità incredibile e la cosa mi è stupito perché io mi immaginavo una cosa diversa e invece ho scoperto di avere tante cose in comune con lei ma lì lei ha dovuto spiegargli che cosa stavi facendo cioè vi conoscevate già allora io non ricordo non ricordo in questo momento però no credo che sapesse già vagamente cosa stavo facendo ed è stata super gentile cioè mi ricordo proprio ancora dei passaggi delle cose che ci siamo detti ed è capitato che poi la ricontattassi e le chiedessi opinioni cose come mi dovevi comportare in questa situazione perché ho proprio visto che aveva sia questa voglia di condividere un sacco di cose sia avevamo questa affinità e nel caso prima hai citato anche Fedez in quella con Fedez ad esempio era chiaro che tu stavi invitando anche una persona che aveva anche delle idee o comunque rispetto a quello che hai raccontato adesso è la persona completamente opposta è un problema che ti sei posto all'inizio hai detto mi interessa proprio per quello pensavi che lui non accettasse allora pensavo sicuramente che lui non accettasse infatti è stato molto gentile a venire da meglio glielo ho detto e lo ringrazio ancora ma sì cioè è un problema che mi sono posto tra virgolette nel senso che poi è un po' noto che io se devo fare delle domande faccio quelle domande e la prima domanda che ho fatta a Fedez perché tutti ti odiano la nostra intervista è iniziata così morbida tra l'altro morbida morbida che quindi non crea quel clima io poi pensavo che lui ridesse di questa cosa invece aveva detto ma perché me la ricordo l'ho vista anche per una mia esperienza nel senso che è una cosa che io sto imparando adesso non ho un background di mille mille interviste quindi ci sono alcune aspettità sulle quali bisogna lavorare però sì credo che le persone molto diverse da me mi diano di più perché a prescindere da quello che ho detto stai a bignarti ma lì è una cosa personale a livello di intervista di resa dell'intervista non dico lo scontro però un scambio di opinioni uno scambio di opinioni di punti di vista diversi se è fatto in modo carino ti dà degli spunti banalmente non è che io abbia ragione su come gestisco i miei rapporti familiari per la questione di notorietà e non è che abbia ragione lui sono due modi di vedere le cose il fatto che si mettano assieme secondo me fa uscire delle cose interessanti però ci sono persone o personaggi che dicono io questo non lo inviterei mai o non lo inviterò mai a parte gli assassini e i boss mafiosi immagino di sì allora c'è un discorso che salta sempre fuori cioè quando quando qualcuno viene in un podcast in genere c'è uno scambio cioè diciamo sta cosa sai tipo il tour del libro io vado in televisione perché è uscito il mio libro e quindi c'è poi Lily Gruber che cito sempre lei è un grande fan che fa vedere il libro Alessandro Maslow molto old school c'è quella roba lì quindi la ragione per la quale uno va è perché è in tuo poi il libro c'è sempre un discorso di cosa tu dai all'altro e cosa l'altro dà a te e io credo che ci sia anche una questione di responsabilità sulle persone verso le quali decidi di accendere un riflettore perché io banalmente ti faccio degli esempi a caso se io tiro dentro Silvio Berlusconi io non ho nulla cioè Berlusconi non ha bisogno di me cioè può dire quello che vuole fare quello che vuole è una persona che se vuole dire una cosa la gente lo ascolta se io porto qualcuno che ha delle idee terribili ma che nessuno conosce e io permetto che queste idee circolino di più gli faccio da megafono è una questione che io mi metto anche se poi l'intervista sarebbe valida o avrebbe anche dei numeri più grandi proprio per questo motivo esatto e questo è un pensiero che condivido al 100% però perché secondo te questa cosa molte volte ad esempio nei media tradizionali quindi nella televisione eccetera eccetera non succede cioè in questi anni si è dato spazio a cose che magari non dico opinioni diverse che quello ci sta però a cose oggettivamente o non vere o sbagliate poi ripeto lo sbagliato può essere soggettivo in alcuni casi in alcuni no secondo te come mai succede? ma è banale per puro share per puro share certo perché ma questo è anche una questione di pubblico cioè se tu cerchi di attrarre il pubblico con lo scandalo con il litigio ovviamente più la persona è controversa meglio è questa cosa è una banalità insomma e se non accerta ci sta diciamo che c'è una linea che tutti tracciano dovrebbero tracciare ma non tutti la tracciano nello stesso punto chiaro io posso anche permettermi di fare questa cosa perché parlo una community che è comunque di nicchia sì è grande però non è Rai 1 se fai il festival di Sanremo magari è un discorso diverso no? stai parlando a un pubblico che passa di lì che ti vede a caso ci sono dinamiche diverse ti hanno mai chiamato? a fare Sanremo? no a fare Sanremo e mi hai portato un tuo pezzo a Sanremo no a fare l'opinionista in un talk show qualche volta sono stato contattato molto di recente da una giornalista che stimo tanto che si chiama Alessandra Sardoni sempre sulla 7 devo dire che mi ha fatto piacere anche se sono andato in molti altri casi ho deciso di non andare in altri posti cioè quando ti presentano come ti presentano? quello è sempre un problema perché lì io vedo sempre il signor Barnes dei Simpson con il cappellino che fa il giovane e dice abbiamo qua non lo so come ti presentano? in genere come youtuber che è un po' un problema ecco rispetto adesso dopo tutto quello che ci siamo detti prima mi immagino no ma sai perché? perché alla fine io stesso posso fare tutto il discorso di youtube che è la tv del mondo eccetera però quando io ti presento e ti dico questo è un giornalista o ti dico questo è un esperto di X oppure ti dico questo è uno youtuber tu anche io automaticamente dici no ma questo è un coglione ma questo che cazzo non sa niente è una cosa istintiva che sai perché hai la percezione che quella persona sia entrata senza delle barriere all'ingresso non è vero però ce l'hai mentre se entri in una che ne so in un telegiornale in una roba televisiva c'è un po' la percezione che qualcuno ti ci ha messo e quindi sei stato vettato c'è un po' questa cosa che qualcuno ti ha scelto qualcuno ti ha scelto poi sappiamo che il mondo non funziona esattamente così però c'è un po' questa idea e quindi c'è sempre un po' infatti c'è una compilation da qualche parte che qualcuno fa ogni volta delle mie facce quando ti presentano quando mi chiamano youtuber perché c'è sempre l'occhio che ha un pochino quel piccolo twitch che ti che ti prende però ci sta cioè lo capisco e secondo te questa cosa cambierà cioè ci sarà un momento in cui questa cosa verrà legittimata o insomma si cambierà la percezione no penso di sì per forza col tempo però io ad esempio girando un po' negli Stati Uniti è vista come una cosa figa cioè lo stesso podcast per dire no che magari adesso stiamo iniziando a sdoganare certe cose e anche personaggi di un certo tipo lo vedono come una cosa potente paradossalmente io in questi spazi italiani ho poco spazio ma vengo contattato dalla BBC che mi chiede cose e io all'inizio proprio da italiano gli avevo detto oh ma guardate io non sono un giornalista e gli abbiamo detto no ma noi riconosciamo come giornalista il lavoro giornalistico certo non ci interessa l'ordine e quindi paradossalmente ho un riconoscimento da lì dalla BBC che se permette è figa chiaro però magari in altri ambienti però appunto me ne accordo quando ne parlo all'estero magari di quello che faccio anche del podcast eccetera viene vista anche quando provo a invitare ospiti internazionali viene vista come una roba fighissima cioè per loro è la cosa più figa che tu possa fare YouTube il podcast o altre piattaforme considerato che c'è un delay di circa tre anni tra quello che succede qui e quello che succede lì magari io spero anche se lì il discorso è proprio una percezione culturale diversa anche il discorso cioè se pensi anche ad altri di proprio youtuber che magari si chiamano YouTube tipo Casey Neistat che però invece è visto come uno figo è un regista spaziale ed è un regista quindi proprio forse un discorso anche del nostro paese ma dipende sicuramente anche una questione di età noi siamo un paese molto vecchio in un certo senso le trasmissioni televisive sono sempre quelle cioè i personaggi ruotano poco no paradossalmente Alessandro Cattelan che vedrò stasera nel senso voglio tanto bene però è il giovane presentatore da quanti anni da molti anni è il giovane presentatore perché sono processi di cambiamento molto lenti io sono considerato un bambino e comunque ho 35 anni fra un po' con due figlie una moglie faccio sta roba no sono un bambino perché appunto c'è tutto un discorso di età e di gerarchie che poi sono un po' particolari nel senso questo è strano questo è strano però oggi ci sono tanti altri mezzi tante altre cose dove poi invece tu puoi continuare a fare delle tue cose e avere grande successo come nel tuo caso e la grande domanda poi che magari uno ci ha ascoltato fino adesso e si fa è ok però come fa Alessandro a tirare su tutta la baracca e a cavolo a fare tutte queste cose avere delle persone aver creato il gruppo eccetera la cosa che mi ha colpito è che tu collabori con degli sponsor chiamiamoli sponsor perché poi alla fine sono dei partner non so tu come li chiami che sono molto in linea con te e questa è una scelta giustissima lo fai credo per te ma anche perché senti una responsabilità verso la tua community tantissimo tantissimo io sono più reale del re in questo senso perché magari spesso la community non si farebbe problemi per delle cose ma li faccio io è capitato che io facessi dei sondaggi per chiedere ragazzi ma questa roba vi sembra ok vi sembra e poi portavo delle ragioni per cui potesse poteva essere problematica alle quali nessuno aveva pensato perché sono io che mi metto un sacco di problemi e appunto lo faccio perché sento questa grande responsabilità nei confronti di quello che faccio più le persone mi dicono io sono cresciuto con te bravo che fai questa cosa che gli altri non fanno che ci metti questa cura più io sento la necessità di continuare su quella strada lì cioè più hai paura di deluderli magari se fai una scelta tantissimo tantissimo ok anche troppo ci pensi centomila volte sì certo però tu hai anche un meccanismo per cui anche la community è padrone in un certo senso padrone no però comunque in un certo senso è coinvolta anche nel sostegno del progetto sì 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 non potremmo fare cioè tu hai stato forse uno dei primi ad avere un tuo club o comunque come funziona quella cosa lì abbiamo un sistema di abbonamento che è passato tramite una piattaforma che si chiama Patreon per adesso ecco è il più grande d'Italia sono stato uno dei primi credo ad averne aperto uno quando forse quando ancora era solo negli Stati Uniti cioè era una roba che stava arrivando prima ce n'erano vari poi Patreon ha comprato tutto è divenuta più o meno l'unica poi è arrivata OnlyFans ma quella non ha quella è l'unica cosa per ora per ora per ora non so quante persone vogliono vedere un quarantenne secondo me ci sono ci sono ci faccio un pensiero però quello comunque è stato anche un cambiare la cultura cioè lì sempre parlare dell'Italia non è abituata a pagare per queste per i contenuti cioè anche i giornali online piuttosto cioè non lo prendono no? vero c'è un po' uno shift in questa perché i giornali si sono resi conto che solo con la pubblicità è durissima ok e quindi stanno cercando di mettere dei sistemi l'hanno messo però poi quanti effettivamente pagano per per il contenuto però nel tuo caso l'hanno fatto nel mio caso quanti siete su Patreon? qualcosa oltre 2000 forse che comunque sono 2000 persone che voglio dire comunque per avere il contenuto di un certo tipo loro cos'hanno? dei privilegi speciali? dei privilegi speciali ci sono vari livelli diciamo di abbonamento però sì privilegi speciali è il discorso appunto quello di permettere che alcuni finanzino un lavoro che rimane principalmente gratuito perché poi la fruizione di Breaking Italy rimane gratuita per tutti e quindi alcuni che possono e vogliono sostengono lo sforzo per tutti gli altri e quindi noi non abbiamo un paywall per cui se non paghi non vedi per Breaking Italy per altri contenuti sì certo e secondo te il futuro è in questa direzione? sì 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 per forza perché secondo me sfuggono sicuramente non a te che fai questo lavoro però alle persone normalmente sfugge quanto sia costoso avere degli entourage di persone che tutti i giorni fanno delle cose sono costi che scalano molto velocemente e quel lavoro insomma va retribuito va anche riconosciuto però tu come hai fatto a farglielo capire alla tua community questa cosa? cioè sei stato trasparente e gli hai detto ragazzi io voglio fare queste cose che saranno per voi per noi per tutto eccetera sì 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 voglio essere il più libero possibile esatto è molto lì la questione perché ovviamente tutti quanti hanno tra grandi virgolette un padrone no? perché tu in un certo senso ti pieghi sempre a chi è che ti dà i soldi e quindi se hai un modello soltanto pubblicitario sono i pubblicitari che decidono cosa puoi dire cosa non puoi dire è un problema che i grandi giornali hanno se io ho un gigantesco gruppo che ne so italiano che fa una cosa una gigantesca azienda che mette un sacco di soldi nel mio giornale e devo fare l'inchiesta contro quell'azienda è un problema se invece sei principalmente sostenuto dai tuoi abbonati dai tuoi iscritti puoi anche dire vabbè sai cosa io lo faccio e poi quello che succede succede ma invece ha delle ospitate proposte da altri mezzi non li ha avuti da altre redazioni per dire lascia la tua vieni a lavorare da noi in redazione o in televisione no non devo dire che no non succede molto spesso questa cosa non non sia mai mai successo magari all'inizio qualche cosettina piccolina ecco all'inizio all'inizio c'era stato un gruppo che aveva cercato di acquisire Breaking Italy e avevo detto di no perché è tuo figlio perché è mio figlio esatto e perché volevo mantenere la libertà totale su quello che stavo facendo era proprio l'inizio ok quindi tu non hai mai avuto comunque l'ambizione di dire io parto con Breaking Italy perché poi spero che un giorno mi prenda a lavorare il New York Times sparo a caso beh no no perché c'è questa questa idea di tenere le cose così come come sono adesso quindi quando fai il mio lavoro sei un po' un maniaco del controllo quindi vuoi tenere tutto un po' però perché non è un'ambizione mia non voglio cosa faccio mollo tutta la mia redazione e vado a lavorare per gli New York Times cioè è una cosa che è proprio un po' fuori da me sì beh non si sa mai nella vita cosa può succedere però no certo per carità diventa diventa complicato quali sono i ruoli scusami all'interno della redazione adesso ci sono io che faccio tutto ci sono io che appunto faccio un po' di rico un po' sottoquanto poi abbiamo una parte che chiamiamo team scrittura che sono le persone che principalmente fanno la ricerca cerchiamo i dati scrivono eccetera abbiamo la parte degli editor che quindi montano i video e fanno anche un data check fact checking la nostra montatrice è anche molto 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 brava a trovare i piccoli difetti gli errori è molto pignola e quindi ha questo doppio doppio aspetto e poi c'è marketing che fa Matteo che citavamo prima è una figura che stiamo inserendo e che fa gli shorts che è presente in questo senso perché chiaramente il linguaggio cambia il mondo della comunicazione esatto non voglio essere io a fare a stare su tiktok ad esempio non puoi esserlo perché non riusciresti a farlo bene no no perché non parlo quella lingua lì però ci devi essere in qualche modo comunque anche il mezzo di comunicazione si deve adeguare a quella cosa certo se no fai l'effetto del quarantenne che va non lo so alle medie ma qual è il segreto perché secondo te la gente magari segue i tuoi video perché tu hai un linguaggio che fa capire meglio le notizie a loro per un discorso anagrafico rispetto ad alcuni cioè qual è il motivo secondo te qual è stata la tua forza il motivo principe è che sanno che io non li voglio fregare e quindi ho questo atteggiamento per cui metto la verità davanti a tutto metto la trasparenza davanti a tutto e c'è proprio questo metodo che io applico di volta in volta e dico vabbè questa è la mia opinione i dati che noi abbiamo sono questi siamo aperti alla possibilità che voi li mettiate in discussione e io cambio idea non mi faccio problemi questa cosa accade anche in redazione di continuo abbiamo ovviamente in redazione non siamo mai tutti d'accordo su niente sono tante persone diverse e ne discutiamo se qualcuno dice guardate questa cosa è così c'ha ragione cambiamo e a quel punto si anche se magari questa cosa offende il tuo pubblico delude il tuo pubblico perché questa cosa succede chiaro beh però fa parte del tuo lavoro come dici non puoi permetterti di non farlo e se dovessi dare un consiglio a un ragazzo oggi cioè oltre a seguire Breaking Italy come si dovrebbe informare secondo te cioè in un mondo in cui molti si fermano ai titoli cioè come puoi fare il mondo delle fake news tutta quella roba lì cioè una cosa fa molto ridere una cosa che mi ha dato un po' la dimensione di come di come purtroppo stiamo vivendo adesso alcune cose nel senso banalmente mi trovavo a New York e ogni tanto facevo per ridere non so ero a Times Square c'era il Billboard quello classico eccetera e avevo fatto ma neanche Photoshop semplicemente con le stories di Instagram loro c'è un banner un billboard dedicato a Spotify avevo messo la copertina di Passa dal Basement l'avevo messa appoggiata con le stories quindi non è un fotomontaggio con scritto raga ce l'abbiamo fatta siamo in piazza Times Square Passa dal Basement grazie a tutti cioè palesemente stavo scherzando e molta gente mi ha scritto grande complimenti bellissimo risultato ok e poi sono andato avanti così facevo ritagliavo alcune immagini le attaccavo non so sul retro di un taxi sul poggiatesta del retro di un taxi ragazzi a Roma su tutti i taxi hanno messo Passa dal Basement tutti fantastico bellissimo non tutti un po' di persone ma non perché queste persone siano stupide anzi ma perché la soglia dell'attenzione di questa roba era scrollo vedo non ci sto neanche un secondo a capire se questa cosa sia vera e di botto reagisco quindi dico cazzo quindi questa roba la mia è una cavolata atomica ma trasportata alle cose serie ma guarda questo qui è esattamente il punto per il quale io ho iniziato la ragione per la quale ho iniziato a fare quello che faccio perché come dire ti faccio un esempio una quando noi iniziamo a fare il training per le persone nuove che arrivano noto spesso comunque sono persone colte che non è il primo che passa sono persone che magari fanno quella roba lì sono abituate a scrivere noto che comunque su alcuni dati non c'è come dire un senso di realtà è una cosa che succede anche molto nei giornali cioè che c'è un dato che è completamente insensato tipo che ne so 10 miliardi di persone al mondo fanno questa cosa qua e tu dici no è fuori scala questo dato cioè non può essere vero e poi magari ti accorgi perché è stato scritto male eccetera questo perché secondo me non c'è il senso di mettere in discussione con un senso critico le cose che leggi e le cose che vedi specie se confermano un tuo pregiudizio cioè se tu hai un'idea del fatto che basement è una figata e quindi ci sta che sia Times Square magari non metti in discussione il fatto che comunque è fuori scala che basement in questo momento sia Times Square certo il problema è lì non mettere in discussione le cose soprattutto quelle che ti piacciono ok quindi è anche qualcosa a cui tu vuoi credere sì 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 e capita con le notizie importanti però esatto esattamente ed è un fenomeno che si era studiato per molto tempo che veniva chiamato post verità per cui tu arriva l'informazione che è una fake news tu la vedi la rilanci la gente arriva e ti dice guarda che non è così il dato è diverso ti stai inventando questa roba e spesso la risposta delle persone non è avevi ragione ma è sì vabbè ma anche se questa notizia non è vera il senso comunque ci sta se tu arrivi se mi dici tutti i migranti che arrivano rubano io ti dico questa cosa non è vera guarda te la faccio vedere qui oppure siamo invasi da 9 milioni non è vero e tu mi dici ah vabbè qui c'è scritto che non è vero però però comunque il senso dell'invasione c'è e quindi la notizia va bene lo stesso e quello è perché tu invece di mettere in discussione te stesso confermi vuoi confermare un bias che già hai e questo è parecchio complicato da gestire tra l'altro fare il tuo lavoro in questo periodo storico in cui c'è stata la pandemia la guerra cioè come l'hai vissuto tutto questo momento perché poi c'è un paradosso cioè da una parte credo professionale giornalistica c'è anche come dire chiaramente è un momento brutto però c'è anche quell'accitamento del dire dobbiamo fare questa cosa dobbiamo lavorarci sopra dobbiamo capire dall'altra è comunque un periodo complicato sì perché è un periodo di forti divisioni in cui proprio c'è la linea politica A linea politica B linea di pensiero A linea di pensiero B questa necessità di scontrarsi su tutte le cose io sinceramente prima che accadesse non avrei mai immaginato che ci saremmo divisi così tanto su un'epidemia cioè per me era impensabile che ci potessimo dividere su questioni mediche capisco le questioni politiche per carità però che che poi questa roba gocciolasse nella politica e quindi ci fossero i politici che si prendevano i loro esperti gli esperti dicevano tutte cose un po' diverse per me quello è stato un momento in cui ho detto wow quindi questo questa cosa si può applicare a tutto è stato ovviamente complicato è stato complicato mamma mia è un lavoro in quel periodo che non invidio proprio in quel momento anche tutti quei talk show che citavamo prima erano veramente un delirio di cose pesanti che poi c'è stato un momento in cui le volevamo tantissimo quelle cose guardavamo i dati tutti i giorni eccetera e poi il rifiuto ok basta non ne vogliamo più sapere c'è ancora e noi no 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 non è vero come con la guerra che c'è ancora però io mi ricordo dopo le prime dopo che prima tutti si erano esposti dopo le prime tre settimane poi la gente basta però con sta guerra fammi vedere sotto i commenti sotto tutto quanto un peso e di tutti cosa ne pensi di quel concetto come che si dice appropriazione di identità no il fatto di di avere la propria opinione proprio su qualsiasi cosa anche se non è un'appropriazione culturale come si dice quando tu vai a commentare ma adesso c'è una cazzata io però l'andare a a dover dire sempre la tua cioè questi personaggi vari che hanno da dire sempre la loro su qualsiasi tematica che però è cioè quel cavalcare il trend come dire con un post però poi quello dopo è già tutta un'altra cosa e così via perché quello è proprio cavalcare i trend cioè tu stai su instagram a vedere anche queste cose sì cerco di starci poco su instagram perché non è un social che mi fa stare bene in generale non mi piace tanto però sì le vedo perché sono lì e ti vengono lanciate addosso e anche perché chi fa questa roba è molto bravo a cavalcare gli algoritmi per arrivare dove vuoi arrivare perché sono davanti agli occhi delle più persone possibili però no di base io ho sempre anche rifiutato l'idea di essere un tuttologo è un'altra cosa che mi viene detto tu parli di tutto su un tuttologo e no perché noi facciamo un sacco di ricerca sulle cose ma citiamo sempre chi dice cosa citiamo gli studi ci leggiamo i paper ma io personalmente se mi becchi su qualsiasi argomento che non mi sono preparato la mia risposta standard è non lo so non l'ho letto non l'ho visto che è meglio che dire qualcosa è molto meglio dire così guarda per chiudere tu hai una dato che mi hanno parlato di visioni tu hai una tua visione adesso cioè tu vedi il tuo obiettivo di quello che vedi la luce in fondo al tunnel diciamo di quello che vorresti essere o che vorresti far diventare Breaking Italy sì in questo momento abbiamo un sacco di cose che stiamo portando avanti il night che tu hai citato è una cosa il podcast che stiamo facendo è un'altra è tutto pensato con una strategia che spero a un certo punto insomma si chiuda e abbia un senso strutturale e sì vedo un futuro nel quale posso un attimo rallentare perché io sento questo bisogno in questo momento di rallentare di un po' di rallentare e di soprattutto far anche crescere le persone attorno a me perché anche quello è bello è un'altra fase in cui non sei più solo sei con altri e appunto rigettando io l'ego come dicevo all'inizio mi piace anche vedere gli altri che emergono attorno a me quindi quello è un po' un obiettivo questo è molto figo tu sei molto vero e io ti ringrazio un sacco per essere passato di qui in bocca al lupo per la serata cosa fai? si fanno le prove adesso? vai a vedere un po' prove audio si va a vedere come è la situazione poi arriva l'ospite un po' di sbattimento e poi si sale esatto mirto e si fa mirto sempre si deve sempre il mirto vabbè o d'altronde identitario ci tenevo spero di venirti a trovare in Sardegna a provare con mano grazie davvero Shai è passato dal basement